Amici Fanta allenatori, buonasera, bentrovati dal vostro veterano del Fanta Calcio. Lunedì 26 ottobre, nuova puntata del TG Fanta. Una puntata a me mi ha visto molto importante, daremo qualche consiglio di Fanta Calcio, notti a scambi, svincolati, quindi seguiteci. Vi ricordo che stasera ci sarà l'ultimo posticipo di Serie A della Punta e Giornata, tra Milano e Roma, partita molto importante anche in termini di classifica per il Milan. Vi ricordo che in qualsiasi momento potete iscrivere sul canale YouTube TG Fanta Calcio News e consigli di veterano, veramente grazie di cuore a chi si sta iscrivendo. Fateci pubblicità se potete, sapete basta fare clic qui sotto al tasto iscriviti, in un momento sarete iscritti per me è un gesto veramente di grande, grande apprezzamento. Vi trovate anche sulla pagina Facebook Fanta News, Fanta Spazio News, dalla stessa pagina trovate in alto un tasto Whatsapp tramite il quale entrare in contatto con me direttamente in qualsiasi momento, quindi veramente grazie di cuore a tutti. In copertina trovate Viola, Rebic, Ronaldo, Keita e Larsen, vediamo un po' quali saranno i motivi che legano questi giocatori. Allora vi dico subito questo, ho fatto un'analisi abbastanza approfondita su quelli che sono giocatori in difficoltà, i giocatori in appa di lancio e i giocatori che usciranno bene in questo mese di novembre. Giocatori in difficoltà, Vlaovic della Fiorentina, non si è espresso benissimo nelle ultime partite, qualche 5 a bagiale per lui, la concorrenza di qua a me non gli fa benissimo, lui non è probabilmente con la testa adatta per fare il vero bomber, quindi sta accusando un po' il colpo, quindi il consiglio in questo caso è, se ce l'avete in rosa e avete un attacco abbastanza completo, potete pensare anche a qualche scambio. Passiamo a parlare di Bernardeschi, da Juventus, rientrava dall'infortunio, non si è espresso benissimo, ha sbagliato un gol quasi a porta vuota, sulla corsia Mancina non ha fatto benissimo, è stato poi sostituito da Kulusevski che ha fatto molto molto bene, quindi qua probabilmente c'è da fare qualcosa in più, dire qualche riflessione in più sul giocatore che magari potrebbe essere abbastanza in difficoltà. Ha la stima di Pirlo, ma c'è da verificare appunto come sarà nel nuovo assetto della Juventus. Il consiglio in questo caso è, se non l'avete evitate di scambiarlo o di acquistarlo, se lo avete e volete disfarvi, ne può essere abbastanza interessante come idea. Passiamo a parlare di Artur, della Juventus, che non si è disimpegnato benissimo nella partita contro il Verona, un po' lento, un po' impacciato, è un giocatore sicuramente dal prospetto internazionale, vedremo se uscirà bene, io qualche dubbio ce l'ho, soprattutto è un'ottica fantacarcio, quindi poi il consiglio è, visto che il nome è abbastanza rettisonante e c'è qualche stimatore che può chiedervelo in scambio, pensateci. Calleone della Fiorentina, su di lui non si discute, probabilmente la collocazione tattica non è delle migliori, quindi sarebbe più adatto un 4-3-3 o un 3-4-3 come all'avanzata. L'esterno del centrocampo non si è mosso benissimo, quindi qua il consiglio è, se volete acquistarlo in qualche scambio, forse è il momento buono per acquistarlo. Passiamo a parlare di altri giocatori in difficoltà, Lautaro Martinez, per lui grande scenate all'uscita della sostituzione contro il Genoa, il talento non si discute, qualche problema probabilmente legato al calciomercato, e quindi in questo caso il consiglio è quello, se potete cercate di acquistarlo nei vari scambi. Shomurodov del Genoa, non si è ancora ambientato, fa la fatica perché viene comunque da una realtà completamente esterna, estrema, il talento si fa intravedere, però la concorrenza di Scamacca adesso è abbastanza importante, quindi qua se potete cercare di sbarazzarvele potrebbe essere un'idea abbastanza discreta. Gervinio nel Parma, probabilmente mi manca un po' il mordente per la gamba, che comunque con l'età che avanza si fa un po' sentire, Magagliano del Crotone, mi sembra un po' l'anello debole della difesa, che comunque il Crotone è una squadra discreta, ma subisce parecchio in fase difensiva, sia con Luperto che con Gigi non è ancora riuscita a coprirsi del tutto. Poi vi ho messo questi giocatori, giocatori di rampa di lancio, di fatto vi ho messo, vedete, ci sono parecchi nomi interessanti, Lovato del Verona, si è visto anche ieri contro la Juventus, comunque si è mosso e disimpiato discretamente bene, sono benissimo, Messias, ve l'avevamo annunciato nella sessione estiva, e si sta dimostrando veramente importante e interessante, Frabotta della Juventus, comunque è adattabile in diversi ruoli, ieri ho giocato ogni quattro dietro, può giocare anche come stanno in centro campo, l'Under 23 mi sembra molto molto interessante, Colle del Verona, veramente un talento che vi avevamo comunque indicato, come prospetto interessante, come potenziale crack, si sta dimostrando tale, quindi questi consigli che vi do sono in questo senso, potete trovare dei giocatori che potrebbero essere anche svincolati, nelle leghe, se fate leghe 8, a sé sicuramente sono svincolati, ma anche 8-10 potrebbero esserci degli svincoli, quindi pensare di comprarli, non è una brutta idea in questo caso. Così come parliamo di Rovella, del Genoa, comunque il 18 anni si è messo e mostra molto bene, parole di apprezzamento una volta ancora per Conte e per lui, Akpa Akpor dopo il gol contro il Borussia in Champions, comunque si è disimpiato bene, Schoten e Ikidi e Bologna sono giovani molto interessanti, Sabattini si è mosso molto bene, lo stesso Svanberg che non vi ho messo qua, comunque sono prospetti molto molto interessanti, quindi vale anche qui la stessa regola, se potete acquistarvi fateci un pensierino. Algo Medello Spezia, il 18 anni comunque che arriva dall'Inter, è giocato dettolare contro il Parma, è un po' di inesperienza, ma comunque il talento c'è, Molina non è più una scoperta, però comunque si sta mettendo in grande mostra, io l'ho segnata anche con un gol contro il Cagliari, Zappa un ulteriore assist, comunque molto molto bene, e Scamacca lo aspetto al Varco, perché penso che possa fare molto bene a discapito appunto di Shomorodov. Chiudiamo con questi giocatori, che vi lascio che faranno secondo me un ottimo mese di novembre, in certi casi rientrano dagli infortuni, o rientrano da Covid, nel caso di Young dell'Inter, Pereira aspettiamo ancora qualche bonus, nel league territoriale a breve, così come lo stesso Arebic, sono giocatori che conoscete tutti, però possono essere molto utili per il vostro fantacalcio. Kalinic, comunque ieri ha tenuto benissimo la squadra del Verona contro la Juventus, comunque ha preso parecchi falli, sia da Bonucci che da De Miral, quindi ha fatto molto bene. Zola, dello Spezia, complice anche all'assenza di Calabino, per un periodo abbastanza prolungato, può essere molto molto interessante, fa sportellate, quindi molto bene. Simi, anche ieri si è mosso bene, ha preso un bel set in pagella, e salva per segnare, solo un grande cranio, gli ha impedito il gol, quindi lui è sicuramente da investirci, come lo stesso Sogretà, che tutti conoscete. Cuidiamo con questi nominativi, che possono essere molto interessanti per i fanta allenatori. Viola del Benevento, ieri è convocato, non ha giocato neanche un minuto, però sarà pronto per la sesta di campionato. Benali ha giocato, la partita ha preso 6 e mezzo, quindi sicuramente da prendere se non l'avete ancora preso ed è svincolato. Strieger Larsen, molto interessante in ottica a fantacarcio, come esterno di centrocampo, pur essendo il stato difensore. E Cristiano Ronaldo, che rientrerà poi dal Covid a brevissimo. Io vi ricordo ancora una volta che è possibile iscriversi in qualsiasi momento al canale YouTube di Giofanta Carcio News, consigliere veterano. Grazie di quale veramente a tutti, ci vediamo presto sul canale, e buon fantacarcio a tutti. Grazie.